E' un altro prodotto della nostra terra, sono i prodotti veri e ricorriva il 200esimo anniversario. Il secondo è che possiamo chiudere la nostra serata, perché abbiamo parlato di un po' lunga, però abbiamo un po' divagato. Perché sono andato del parco, perché sono andato del parco, però adesso è un di me, siamo andato del parco. E' un bello che ci sono 10 anni.